Che cosa si aspetta Terzigno dal piano strategico metropolitano? Sì, è una magnifica opportunità che ci viene data dal sindaco metropolitano, quindi una serie di interventi che consentiranno il completamento delle opere che la mia amministrazione ha già iniziato. In che modo il Comune, attraverso i suoi organi, la Giunta, il Consiglio, ma anche i cittadini, pensa di poter collaborare e contribuire alla redazione del piano strategico metropolitano? Sicuramente collaboreremo e potremo intervenire su strade, su scuole, su strutture sportive che da tempo richiedono una serie di interventi. Quindi un grazie particolare alla città metropolitana che sta dando l'opportunità ai Comuni di poter avere un ausilio importante per il completamento di queste opere. Terzigno ha in mente uno o due obiettivi da raggiungere attraverso il piano strategico metropolitano? Sicuramente le scuole, interventi necessari all'interno degli istituti scolastici e soprattutto il completamento delle opere di viabilità che come dicevo già stiamo procedendo. Quindi un importante aiuto che ci viene e che sicuramente sapremo sfruttare.